Compsognatus Uh, un nome altisonante per questi scriccioli E' testa piccola Joel, guarda E' un dinosauro con il cappello Si chiama Cappellosauro Diventerà una moda? Spero non diventi una moda Triceratopo vuol dire Faccia con tre corna Non deve essere bello quel corno puntato addosso Il Dimetrodon era un predatore alfa Cos'è un predatore alfa? Un predatore supercazzuto Oh, eppure è piccolino Era riferito a me? Beh, se piace a te Oh, sì A me piace un sacco Gallimimus significa imitatore di galli Chi inventa questi nomi? Gli scienziati Beh, che mi cretini Il Brachiosaurus mangiava 300 chili di piante al giorno Uh, immagina la cacca Oh, fico Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi Erano famose, credo Se non erro, piacevano anche a Sara O erano quelle sugli serini strani Non ricordo Dimetrodon sembra una medicina Ma... No, non ricordo Grazie. Grazie. Ehi, questo sembra un uccello. Beh, i pariontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricordo un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta... Boom, Tommy. Veloci raptor. È piccolino. Ecco, mai fidarsi dei film. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, sarà, mi adorano. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. Wow. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio, volavo venere, tu terra. Ah, ok, ho capito. Bel sistema. Quante volte siamo stati sulla luna? Ehm, due. Sei volo. Sei sicura? Sì, sicura. Con me saranno sette. Sì, sicura. Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta. È quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no. Ehi, aspetta un attimo. Stai andando in orbita. Mi servirà un casco. Oh, certo. Dove ho la testa? Ah, bellissimo. Ah, bellissimo. Dopo di te. Ma ti ho la testa. Wow. È pazzesco. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare com'è. Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia. Un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. 30 secondi, then counting. Aspetta supporta, feels good. T-minus 25 secondi. 20 secondi, then counting. T-minus 15 secondi. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2. All engines in line. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. 7, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1. help. 6, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Ne è valsa la pena? E c'è bisogno di chiedermelo. Non sei di che, piccolo. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Ok. Ehi, bella nota sulla terra. Sì. Ehi, bella nota. Aspetta. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato di te. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare? Devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. Joel, guarda! Mi dai un passaggio? Passate il passaggio. Non vi riesce. Vieni a ascoltare. E lei del passaggio. Lui, vai. Ehi, dammi una spinta Non lo so Ti apro io la porta Coraggio, non molliamo ora Forza Vai Ok, brutte notizie Qui la porta è bloccata Beh, invece che trovi un altro ingresso Io faccio il giro all'esterno Ok, sta attento Sta attento tu Dinosauri dappertutto Dura la vita, eh Gli serviva un abbraccio È troppo buio qui Oh, merda È troppo buio qui È troppo buio qui Ah, vieni fuori 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 Stupidi animali finti Ah, vieni fuori Ah, vieni fuori Ah, vieni fuori Ah, vieni fuori Che diavolo era? Solo un animale Ok, muoviamoci, voglio accendere un falò prima che faccia buio Forza Forza Ah, vieni fuori 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. E' scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. E' utile. Senti, ieri si è restato stupido. Ciao. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità in rapporto. Passo. Missito 13. Unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso. Un maschio è armato. Un intruso maschio? Tommy. Dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Il Crest. Ok. Dina. Sì? Non va bene. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. Ok, Crest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Deve essere Tommy. Merda. Allora. Grazie. 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 Hai qualcosa? Vai bella Hai qualcosa o no? È lei! Finita l'auto! Guarda! Guarda! Merda! Vai bello, fermala! Timmy! Lo chiamolo! No! 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 C'è un seguito! Grazie Forse ho visto qualcuno. Bruf! Vai! Ti capro io! Ci penso io! Ehi, uccidila! Dov'è diabolo è finita? Sul fianco! Sul fianco! Avviciniamoci! Va a prenderla bello! Corcidila! No! 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 Voi va a prenderla! Voi! Cascci! Voi! Cascci! Voi! Voi! Cascci! Ecco la legge! Dietro lato! Ecco la corretta! Chiunque! Cazzo! Vuoi darti da fare? Niente, eh? Ok. Non senti più l'odore? Vuoi leppe del cazzo. Cazzo! Cazzo! Avranno sentito? Vieni con me! Perfetto! Cazzo! 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 Grazie. 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 Un negozio di tatuaggi. Grazie. 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 Au revoir, Dottie. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.